C'è una persona che nella vita ci lasciano qualcosa e anche se per poco quell'incontro ti rimane nel cuore e te lo porterai per sempre dentro. Qualcuno mi ha detto che ci si innamora soltanto una volta ma io non ci credo. L'energia non si crea e non si distrugge. Tutto si trasforma. Anch'io avevo bisogno di trasformarmi in qualcosa di migliore e con Vladimir ci stavo riuscendo. Io penso che bisogna essere sinceri e autentici con le persone che ci vogliono bene. Sì, può essere, ma qui non siamo in Italia, Massimo, qui siamo in Russia. Ormai l'odio ha preso il sopravvento e più dopo le leggi di Putin la paura è aumentata. Il rispetto viene dalla testa, ma l'odio viene dal cuore. Nessun sentimento è completamente sotto il nostro controllo. A volte è più comodo credere all'immagine che gli altri hanno di noi che accettare veramente quello che siamo. Grazie. 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 Grazie.